salve amiche ed amici di youtube qui il vostro sante gian non ho potuto in questi giorni farvi altri video perché ho avuto da fare a dire la verità mi trovo molto disagiato perché ho dei lavori in casa come ogni persona che ha dei lavori in casa anch'io mi trovo disagiato con i lavori che lavori ha avuto di mantenimento perché bisognava dargli un tocco di freschezza alla stanza e non è l'unica stanza che abbiamo verniciato non so se vi ricordate dai video per quel poco che si vedeva che era di un colore verdino chiaro tempera chiara verdino invece gli abbiamo dato un bel colore giallo canarino molto accesso qua vi avevo fatto vedere nell'ultimo video credo dove si trovava il mio tempietto come potete vedere beh adesso c'è poca luce quindi come non potete vedere è di un colore bello giallo intenso qua che c'è luce vi farò vedere come ecco è giallo giallo che non sarà lucido sarà opaco però infine giallo quindi guardate qua perché poi non potrete più guardare questa parte della stanza ci ritorneranno i mobili quelli coi libri che i libri intanto ho dovuto levare perché se no non riuscivo a muovere i mobili